il ritorno alla civiltà mi ha fatto rilassare più del previsto nella camera d'hotel mi sono addormentato a pancia in giù guardando un video la sera prima dopo aver spento la sveglia ed essermi riaddormentato mi alza le nove e mezza poco male il check out è mezzogiorno forse dormito un po troppo avanti che strano mettersi addosso cose che non puzzano wow adesso devo sistemare un po tutta sta roba ok carico tutto adesso siamo pronti a partire non dovrebbe mancare altro azzeriamo sperando di non resettarlo anche oggi e iniziamo questa nuova settimana oggi è lunedì avanti tanto mettiamo sugli occhiali prima di batterli diciamo che riportarmi alla civiltà mi ha fatto riposare un po troppo nella camera d'hotel sono le 11 passate quasi per l'orario di pranzo quindi sfrutto questa cosa per andare a fare un pranzetto veloce da qualche parte e dopo di che iniziare a pedalare finché non viene sera così da recuperare un po il tempo perso prendendo la mela sempre con calma ovviamente intanto usciamo da marsiglia e dopo di che vedo di trovare un posticino dove mangiare sono fermato in un forno ho preso un pezzo di pagnotta bello onto insieme a jumbo banana faccio questo pranzo abbastanza veloce dopo di che mi riempio di crema e mi metto a spedalazzare è un bel pezzettone comunque è molto buono non so il nome dai che giri stupendo qua anche si vede il mare laggiù che spettacolo bomba prima in un momento di pazzia mentre stavo percorrendo una salita che mi portava a rove mi sono messo a cantare la canzone shakerando leggermente rivisitata con tranquilla mamma sto tribolando 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 comunque adesso dovrei fare un litorale in mezzo al mare sono curioso di vederlo adesso finalmente dopo una strada abbastanza frequentata da camion dato che lì vicino c'è ci deve essere una raffineria adesso siamo penso sulla foce del rodano si sente molta più tranquillità finalmente senti che pace finalmente una zona tranquilla oggi comunque sta soffiando un vento parecchio forte laterale contro dietro in tutte le direzioni e cosa ci posso fare sono sul mare praticamente momento non 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 Strano, no? Mi tirano su un po' il verone allucinevole, sta fermo lì. By the way, questa ciclabile è nel bel mezzo della Camargue, non so bene descrivervela a livello naturalistico, però è una riserva naturale. Il bello della Camargue è proprio il fatto che sia sulla foce del Rodano che la rende un'esplosione a livello naturalistico. Non so descrivervela bene, quindi troverò qualcosa da aggiungere in posto, vero Leonardo? Eh sì, proprio vero. Infatti con un'area di oltre 930 km2, la Camargue è il più grande delta fluviale dell'Europa occidentale. Tecnicamente è però un'isola, essendo completamente circondata dalle acque. Essa è una vasta pianura comprendente vaste lagune di acqua salata, divisi dal mare da banchi di sabbia e circondata da paludi coperte da canneti, a loro volta attorniati da grandi aree coltivate. La Camargue dimora di più di 400 specie di uccelli, con gli stagni di acqua salata che forniscono uno dei pochi habitat europei per il fenicottero rosa. Viva una razza particolare di cavalli chiamata appunto Camargue, è luogo di molte specie protette ed è essa stessa area protetta. Inoltre pascolano liberamente tori. La flora della Camargue è adatta a coesistere con condizioni di acqua salata. Fioriscono quindi la lavanda di mare, oltre alle tamerici, ai salici e ai canneti. Una leggenda narra che le paludi della Camargue fossero abitate da un terribile mostro, la Tarasca, che passava il tempo a terrorizzare la popolazione. Santa Marta con la sola preghiera lo fece rimpicciolire in dimensioni, così tanto da renderlo del tutto innocuo, e lo condusse nella città di Tarascona, dove fu ucciso dalla popolazione locale. Al giorno d'oggi la Tarasca si è rifugiata nel celebre gioco di Super Mario Bros, e interpreta il personaggio di Bowser. Un'altra tipica tradizione popolare della Camargue è la Cors Camarghisque, che a differenza della corrida non prevede l'uccisione dell'animale, ma la sottrazione di oggetti al toro da parte dei partecipanti, come piccole coccarde e raccetti precedentemente legati alle corne alla testa del toro. Come detto prima nel video, a proposito del vento, si ha la continua presenza del Mistral, il vento che soffia da nord-ovest e che è particolarmente intenso da marzo a maggio. Esso influenzia il clima della Camargue, che è generalmente molto caldo d'estate, con tassi di umidità che raggiungono anche il 100%. Il Mistral è un vento che può arrivare anche a 100 km orari, e si forma quando le correnti d'aria fredda irrompono nel Mediterraneo occidentale, scavalcando il massizio centrale francese e proseguono lungo la valle del Rodano. Proprio quello che mi aspettavo un po' dalla Francia. All'inizio non ero molto contento data la devastazione della Costa Azzurra tra Monaco e Marsiglia, invece in questo punto si vede proprio come la natura si riprende il suo posto, ci sono veramente tanti animali ed è quello che mi aspettavo appunto. quindi molto molto bella. Adesso sempre dritti verso Arles, dove faccio una pausetta, sono arrivato a 76 km. Bello bello bello, davvero bella sta ciclabile in mezzo alla natura. Le Pont Van Gogh. Wow, bellissimo. Prima mi ero fermato un poco fuori Arles, a fare una pausa birrino, ho parcheggiato la bici su un paletto, l'ho appoggiata, e un francese arrivato lì in macchina l'ha urtata e me l'ha buttata giù. Cioè, oltre che ha un po' di attenzione, porca puttana, adesso ho il cambio che mi sfarfalla, fa un po' quel cavolo che gli pare. Quindi veramente non avevo ancora bestemmiato oggi e adesso mi dovrò dare da fare. Bella per te. No comment, davvero no comment. Porco due, vare a te se cambia. Che giramento di scatole. E' inaffidabile sta bici, c'è il cambio di sta bici. Basta un minimo, non si va a sballare con niente. No, non riesce a tenermi la marcia, incredibile. Dai che giri, avanti. E anche per oggi abbiamo dato. Con domani tocco i 1000 km in bici. Oh no, molto contento. E prima dei 1000 ovviamente non potevo che devastare il cambio. Porca miseria di quell'altro. Adesso mi sa che andrò in cerca di un ristorante perché siamo in mezzo alla Camargue. e volevo mangiare qualcosa di sostanzioso. Sono sopra il rodano e mi rodano le palle per il cambio. Portman Dugald, San Gilles. Posto per mangiare. Fatta. Mi fermo qua che sono devastato. Bene. Dopo 110 km direi che me la sono meritata, una bella bisteccazza. Dai che giri. E' arrivato un gruppo di francesi un po' ubriachello che è dentro che fa Baldoria. Che mangiata. Super super. Una bella ricaricata. A parte il fatto che sono bardato come non so cosa perché mi stanno mangiando tutte queste infami. Mi hanno chiesto se volevo il dessert ma ho optato per un'altra di patate. Perché sto veramente esplodendo di fame. Devo riempirmi come non so cosa. Wow. Forse forse sono stato un po' troppo a cena. C'è un'umidità pazzesca. E trovare dove andare a dormire adesso sarà un problemino. Vediamo se becco qualcosa. Bueno. Accampato. Sono attaccato a una vigna. Quindi domani mattina sveglia presto. Adesso mi butto a dormire perché alla fine ho visto il contachilometri 120 fatti oggi. Domani ci passano i 1000. Penso di averli già toccati con oggi ma domani voglio essere sicuro. Domani li passiamo. Dai. Talla Camarga è tutto. Io mi addormento con queste rane che gracchiano. Notte bistecca. Nonco. Vi èvoca in un'altra cosa. Nonco. Si le faccio lunga. Bi è piaciato. La에요. Nonco.